Buongiorno a tutti e a tutte, io come sindaco e noi come giunta volevamo informare la stampa e quindi i cittadini seppur sinteticamente della riunione di circa 15 ore che abbiamo avuto sabato alla mostra d'oltremare perché riteniamo che sia stato un appuntamento importante, non è il ritorno dalle vacanze perché questa amministrazione ha lavorato tutta l'estate abbiamo lavorato sui problemi della città per consentire un inizio, una fine di estate, un inizio di autunno quanto meno problematico possibile alla nostra città e a tutte le persone che vivono la nostra città. Innanzitutto il clima è stato molto positivo, questa riunione era fondamentale perché la giunta come attualmente composta non aveva avuto modo di potersi confrontare a lungo perché i cambi che ci sono stati sono avvenuti in settimane particolarmente calde sul piano del lavoro interno all'amministrazione, quindi anche le riunioni che pur ne abbiamo avute tante in questi mesi non erano state particolarmente approfondite, quindi ogni assessore compreso il sindaco ha avuto modo di fare un ragionamento a tutto tondo un ragionamento sulle cose fatte, sulle cose da correggere e soprattutto sulle cose che si devono fare ogni assessore ha avuto modo di poter partecipare agli altri, tutti i problemi che affronta, tutte le questioni, tutti i lavori che sono in corso e poi si è fatto ovviamente, io sarò molto sintetico, un ragionamento anche di tipo politico come impostare i rapporti con il consiglio comunale, con le municipalità, con la regione, con il governo, con i partiti, con i movimenti io vado in estrema sintesi, noi consideriamo assolutamente fondamentale rafforzare il rapporto col consiglio comunale e con le municipalità abbiamo deciso che il decentramento è una virtù che va confermata e consolidata e vanno però anche razionalizzate funzioni e servizi evitare sovrapposizioni inutili, appesantimenti burocratici quindi molto rafforzare l'autonomia politica e decisionale razionalizzare gli aspetti amministrativi e burocratici a breve è nostra intenzione, mia intenzione, avere un medesimo incontro come quello avuto con gli assessori, con i consiglieri comunali rafforzare e consolidare sempre nella linea che si sta già facendo del rapporto tra il comune e la regione Campania si è sottolineata da un lato l'importanza strategica di un rapporto corretto e forte tra il sindaco e il presidente della regione ma nello stesso tempo sottolineare con forza le distanze politiche che ci sono tra questa amministrazione e la regione Campania cominciare ai trasporti, alla sanità e all'ambiente riteniamo assolutamente necessario un rapporto più forte con il governo e quindi si è dato mandato al sindaco di chiedere un incontro urgente al presidente del consiglio, incontro che sinora non è ancora avvenuto sul piano formale se non brevemente sul piano telefonico ed informale perché Napoli è la capitale del mezzogiorno, è la terza città d'Italia è l'unica grande città italiana in predisesto che ha governato per due anni senza soldi, c'è bisogno che il governo ci dica che cosa vuole fare per Napoli e noi vogliamo dire al governo quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo il primo punto è il lavoro vogliamo capire il governo che cosa vuole fare per il lavoro su Napoli al primo punto noi mettiamo le bonifiche e la riqualificazione ambientale della nostra città Napoli deve essere risarcita integralmente sul piano economico per le scelleratezze politiche e i comportamenti criminali che per anni si sono abbattuti sulla nostra città da Bagnoli a Napoli Orientale a Chiaiano e voglio dare oggi un messaggio molto chiaro a chi ancora oggi mentre io parlo pensa di proporci di scariche nella nostra città o inceneritori è meglio che lavori alla elezione fra tre anni di un prossimo sindaco perché fin quando sarò io sindaco se necessario anche scendendo in piazza con le mie mani e con la fascia tricolore io non consentirò a nessuno nessuno né istituzione né altri di fare discariche nella nostra città o fare impianti di incenerimento abbiamo deciso di rafforzare il livello di informazione e di comunicazione del lavoro dell'aggiunta nella nostra città ci siamo resi conto che i cittadini non sempre per colpa nostra ma non solo sono in grado, riescono anzi non solo riescono a comprendere i lavori e le cose che noi facciamo per la città dobbiamo comunicare anche gli ostacoli che abbiamo i problemi che abbiamo, i trabocchetti che ci mettono insomma dobbiamo far arrivare al cuore e alla mente di tutti i napoletani che cosa l'aggiunta sta facendo quindi metteremo in campo azioni nuove, innovative, forti sul piano della comunicazione nella certezza che la stampa in modo critico in modo giustamente profondo riesca insieme a noi a far comunicare alle persone tutto quello che cerchiamo di fare questa occasione è servita anche per approfondire i sbagli che sono stati fatti, gli errori e le cose che non sono andate riteniamo che a settembre sia necessario far vedere agli occhi dei napoletani e dei tanti cittadini della provincia e della regione e i tantissimi turisti che sono tornati anche ad agosto nella nostra città iniziare a vedere le cose che si mettono in movimento a cominciare dai grandi cantieri, dei grandi progetti si tratta di lavori per centinaia di milioni di euro che andranno a incidere su strade e infrastrutture della nostra città questi si vedono, significa posti di lavoro significa una città che si muove non è immobile come pensa qualcuno che ogni tanto dice che la città è ferma la città si muove, si muove tanto e si muoverà ancora di più si muove con mille difficoltà anche tra mille cantieri ma il cantiere significa che la città si muove e significa che ci sono posti di lavoro strade finalmente ci sono i soldi per mettere in sicurezza le strade c'è un cronoprogramma fittissimo nei prossimi giorni da discesa a Coroglio, a via Manzoni, a Santa Maria Cubito a via Scaglione, a via San Rocco, a Fuorigrotto, al Vomero si vedranno con gli occhi e si constateranno con gli pneumatici delle macchine, delle moto e delle biciclette che significa riuscire ad avere finalmente qualche quattrino pochi, ma pochi maledetti e subito per riuscire ad aggiustare in parte la nostra città i parchi noi riteniamo l'ambiente una scelta assolutamente strategica quindi è stato mandato forte al Vice Sindaco Tommaso Sodano di implementare al meglio tutte le risorse per rafforzare la raccolta differenziata nella nostra città lo spazzamento con le idropulitrici partire con i primi lavori dell'impianto di compostaggio confermiamo tre impianti nella nostra città parchi e giardini che consideriamo assolutamente strategici per la nostra città che vanno manutenuti bene e sorvegliati H24 per evitare che noi li togliamo alla camorra che metteva armi e droga all'interno di alcuni parchi della nostra città li riqualifichiamo e subito dopo vengono vandalizzate le giostrine o gli alberi o addirittura si cerca di mettere fuoco ai nostri parchi strategica nei limiti delle risorse che abbiamo è il lavoro che abbiamo messo in campo H24 sulla ristrutturazione delle scuole della nostra città a differenza di altri che non considerano il patrimonio pubblico una priorità noi vogliamo mettere il massimo delle risorse su quello che è uno dei beni principali della nostra città il patrimonio pubblico che significa patrimonio pubblico? Significa i cimiteri significa le scuole significano quei beni che fino a poco tempo fa erano gestiti da un privato e che oggi invece gestisce l'amministrazione comunale a breve ci sarà un piano forte coeso e determinato sulle nuove povertà della nostra città a Napoli stanno aumentando i poveri noi li dobbiamo accogliere con dignità perché sono esseri umani come i ricchi dobbiamo dare più strutture senza fissa di mora dobbiamo evitare che però Napoli diventi un luogo in cui possa apparire prevalente il degrado quindi ci sarà un piano importante per gli immigrati per i senza fissa di mora e soprattutto per i Rom abbiamo dato mandato pieno all'assessore Panini di considerare strategiche le attività produttive e il commercio della nostra città noi vogliamo portare investimenti nella nostra città e per portare investimenti bisogna semplificare al massimo la macchina amministrativa in questa direzione vanno una serie di interventi che abbiamo fatto sui dirigenti che tra qualche giorno faremo sulle posizioni organizzative che tra qualche giorno ancora faremo sullo scorrimento delle graduatorie il concorso che abbiamo deciso di bandire e che si terrà nel 2014 abbiamo sottolineato e lo voglio sottolineare anche oggi con grande orgoglio e con l'umiltà che comunque ci caratterizza questa amministrazione in pieno predissesto in pieno dramma economico non ha licenziato un posto di lavoro e probabilmente nei prossimi mesi potremmo addirittura dare lavoro a chi è stato licenziato da altri questo significa che noi puntiamo sul posto pubblico ma non perché siamo l'ammortizzatore sociale come per anni si è considerato il Comune di Napoli ma perché consideriamo che il lavoro pubblico e lavorare per il Comune di Napoli o per una partecipata del Comune di Napoli significa portare avanti una missione e significa dare servizi ai nostri cittadini quindi noi oggi avendo fatto questo miracolo laico di non licenziare un lavoratore o una lavoratrice e chiediamo a quei lavoratori e a quelle lavoratrici di dare il massimo per la nostra città dare servizi al meglio anche qui si vedranno risultati importanti nelle prossime settimane in particolare per uno dei punti strategici della vita della città che è il trasporto pubblico che in questo anno ha sofferto tantissimo noi abbiamo salvato il trasporto pubblico non l'abbiamo privatizzato abbiamo creato una holding unica del trasporto pubblico nelle prossime settimane ci sarà un raddoppio di mezzi pubblici per le strade della nostra città grandissimi investimenti sulla metropolitana vorrei ricordare che questa amministrazione in piena estate mentre ci si arrovellava su polemiche roventi noi abbiamo chiuso un accordo che va al Cipe tra qualche giorno che consente di poter ottenere il completamento della tratta della metropolitana fino a Piazza Garibaldi 300 milioni di investimento tanti posti di lavoro e insieme alla Regione chiudere anche il tratto dell'anello che va verso l'area nord della provincia di Napoli infatti abbiamo anche dato mi è stato dato mandato pieno a me insieme agli assessori di portare avanti con forza il progetto della città metropolitana e di essere sempre più presenti in una sede che noi consideriamo fondamentale che è quella del lanci campani riteniamo strategico in un'ottica di sicurezza urbana rispetto a quello che altri intendono come militarizzazione delle città quello di far trovare sempre più presenti sul nostro territorio il personale della Polizia Municipale e le attività notturne chiedere alle forze dell'ordine come stanno già facendo di dare sempre il massimo in condizioni molto difficili ma soprattutto quelli di rendere vivi gli spazi urbani della nostra città ecco un lavoro importante che abbiamo deciso di implementare su quelle che sono le aree di confine tra il comune di Napoli e gli altri comuni quelli che altri chiamano periferie e che noi chiamiamo quartieri della nostra città quindi un lavoro importantissimo sulla zona orientale attraverso i soldi che abbiamo immesso nel grande progetto Napoli-Est che darà risorse importantissime per la riqualificazione ambientale per le infrastrutture per le strade e per l'illuminazione e il progetto che vogliamo portare a compimento con grande determinazione io e il presidente della regione Caldoro quello dell'abbattimento delle vele che noi abbiamo deciso è la realizzazione di un grande polio scientifico della ricerca universitaria e l'area nord che cambierà per i prossimi 50 anni il volto di una delle aree che è andata nella storia come Gomorra e invece dovrà ritornare alla storia come polo di eccellenza della ricerca in modo che le aree liberate della nostra città siano sempre di più e non siano solo il puro importante e decisivo lungomare liberato noi dobbiamo vivere la città questa è la città sicura e tutti gli assessori saranno impegnati per strada perché un altro punto sul quale abbiamo anche fatto autocritica affinché si potesse andare sempre meglio è quello della partecipazione bisogna fare più assemblee di quartiere più assemblee di popolo stare di più tra la gente prendersi anche quando è necessario i graffi gli schiaffi e le critiche perché serve serve guardare negli occhi noi le persone guardiamo negli occhi e ci auguriamo in questo rapporto vivo forte e carnale con i cittadini ci siano anche i consiglieri comunali i consiglieri di municipalità e i partiti di cui si è parlato tanto in questi mesi i partiti sono fondamentali stanno nella costituzione repubblicana questa giunta vuole avere un bel rapporto con i partiti ma non un rapporto di sudditanza le mani tese sono mani tese per la città non mani tese per le poltrone se poi le poltrone servono per fare qualcosa per la città se ne discute ma questa amministrazione non ha diciamo l'anelito l'ansia di dover stringere accordi con alcuni partiti noi abbiamo una maggioranza in cui crediamo e la nostra maggioranza della prima ora la vogliamo rafforzare perché no ci piace dialogare sui contenuti noi vogliamo sfidare i partiti sui contenuti a cominciare dagli amici nostri dei grillini che su tante cose la pensano come noi sederci attorno a un tavolo per migliorare l'ambiente della nostra città e le politiche che a loro sono tanto care così come ci interessa avere un rapporto sempre migliore con Selle e così ancora con gli altri partiti a cominciare dal PD ma a noi interessa soprattutto lo dico con molta umiltà e con me tutta la Giunta risolvere i problemi dei cittadini io sono stato eletto dai cittadini e cerco di risolvere nel miglior modo possibile facendo errori ma lavorando dalla mattina alla notte il maggior numero dei problemi il sindaco viene giudicato dai cittadini quindi mi auguro che i partiti ci stiano vicino in modo critico per risolvere i problemi della città e non tramino invece per cercare di mettere in difficoltà questa amministrazione perché mettere in difficoltà l'amministrazione significa mettere in difficoltà i cittadini se poi ci vogliono mettere ostacoli loro sanno che noi abbiamo il nostro sport preferito che è la corsa ostacoli che abbiamo cominciato due anni fa e che non ci spaventa un rapporto più forte anche qui da un lato autocritica dall'altra sfida con i sindacati noi dobbiamo chiudere un grande patto con i sindacati che sono forse necessari e indispensabili per poter governare bene la nostra città noi ci siamo seduti tante volte ai tavoli con i sindacati abbiamo chiuso in cordi importanti soprattutto con le partecipate sappiamo che i sindacati non possono apprezzare che non abbiamo licenziato un lavoratore sappiamo che i sindacati non possono non apprezzare che non abbiamo messo sul mercato aziende fondamentali non possono non apprezzare che abbiamo salvato il comune da un disavanzo spaventoso l'assessore Palma ci ha confermato che se va come deve andare noi a fine 2014 addirittura saremo in avanzo questa è una cosa è un miracolo laico di questa amministrazione noi vogliamo i sindacati dalla nostra parte vogliamo correggere alcune cose che magari non sono andate ma non ci spieghiamo perché non si possa chiudere subito un grande accordo con tutte le organizzazioni confederali noi abbiamo e mi avvia la conclusione per poi affidarmi alle vostre domande una strategia molto chiara di città noi abbiamo ascoltato con grande attenzione le critiche anche quelle più violente anche quelle più ingiuste ma soprattutto abbiamo ascoltato con grande attenzione le critiche di chi ama magari da prospettive diverse la nostra città noi abbiamo una visione di città l'abbiamo molto chiara è una visione che punta soprattutto sui giovani abbiamo deciso in quell'incontro abbiamo detto ma qual è la parola chiave che accomuna gli interventi di tutti gli assessori sono i giovani e i più deboli dei più deboli ho parlato noi tenderemo la mano soprattutto ai più deboli e ai poveri poi vengono i partiti che ci dovrebbero aiutare a fare questo ma innanzitutto noi ci svegliamo la mattina cercando di dare un po' di speranza a chi non arriva alla fine del mese e su questo ci auguriamo che i partiti ci diano una mano in Parlamento cosa che non è quasi mai avvenuta sinora almeno da parte di molti i giovani noi vogliamo che Napoli diventi sempre di più la città dei giovani quindi ho chiesto ma molti assessori mi hanno anche anticipato nelle loro analisi che ai giovani soprattutto si deve parlare quindi ogni assessorato deve avere nella sua parola chiave il tema dei giovani Napoli può diventare la città dei giovani la città in cui ci si incontra perché c'è musica c'è cultura c'è turismo c'è complessità c'è conflitto c'è attrazione c'è bellezza e c'è voglia di stare insieme una città che sia veramente accogliente noi siamo una città accogliente solidale non razzista non intollerante ma se consentiamo la permanenza di alcuni campi rom come stanno nella nostra città alla fine noi non siamo una città accogliente è un paradosso ma è così noi dobbiamo garantire diritti e dignità a tutti per vivere tutti in modo sufficientemente decente nella nostra città e poi attenzione un'altra cosa su cui abbiamo riflettuto anche oggi nel mio breve intervento ho sottolineato degli aspetti che magari non sono di diretta competenza del sindaco mi sono caricato il lavoro ho detto delle cose potrei dirne tante altre ma non c'è tempo mi sono caricato della sicurezza e non dovrei caricarmene in prima persona ho fatto una direttiva il 14 agosto bene io questo vorrei maggiormente dal governo l'attenzione per il lavoro la sicurezza la dignità di questa città una città che con grande dignità con un sindaco fuori dal comune perché sono l'unico sindaco che non sta nel blocco sociale e nel blocco politico che governa il nostro paese una certa attenzione io amo molto il sud la Sicilia la Calabria sto in contatto con tanti sindaci e tanti amici del sud guardano a Napoli perché sanno che se Napoli affronta in modo diverso la questione meridionale si esce da un immaginario che non piace a quel blocco cioè che il sud ce la può fare anche da solo allora noi chiediamo dignità chiediamo di guardare con attenzione e chiediamo soprattutto di non mettere ostacoli continui a questa città noi in questi due anni abbiamo avuto troppi ostacoli di troppo che non dovevano essere messi a questa amministrazione alcuni li abbiamo indicati altri li abbiamo fatti capire e altri ancora li contrasteremo quindi opportuno che noi abbiamo dalla nostra parte i cittadini che capiscano quanto sia importante questo passaggio per la vita dell'amministrazione rompere un sistema è sempre pericoloso ma noi abbiamo deciso di romperlo e non guardare indietro guardiamo avanti ascoltiamo anche le critiche di chi ha governato per vent'anni lasciandoci un malato in rianimazione e che dopo appena un anno e mezzo pretende di giudicare questa amministrazione noi le ascoltiamo e con loro vogliamo dialogare però diremo fino in fondo che chi ci ha lasciato per vent'anni io vorrei dire questo vorrei farlo questo passaggio noi governiamo da due anni senza soldi e molti dei peggiori diciamo dei più duri critici di questa amministrazione sono quelli che hanno governato per vent'anni e che ci hanno lasciato una situazione drammatica allora dateci il tempo di governare e se amate questa città aiutateci perché io sono disponibile a tendere la mano anche a chi ha governato per vent'anni ma tendere una mano pulita trasparente e onesta chi pensa di ripristinare quel blocco di potere non ci riuscirà perché la questione morale la dignità la trasparenza e l'onestà caratterizza me e la mia squadra e su questo noi non prendiamo lezioni da nessuno nemmeno da chi pretende di in qualche modo gettare fango per far apparire che più o meno siamo come gli altri guardate i miei calzini come diceva Pier Camillo Davigo li hanno svuotati quando facevo il magistrato e li svuotano anche adesso la mia storia la nostra storia è trasparente così come i nostri errori quindi su questo noi pretendiamo chiarezza che si vada fino in fondo ma che la questione morale i giovani i nuovi poveri la dignità e l'amore per questa città sono assoluti quindi sì a nuovi rapporti politici anche con chi ha massacrato la nostra città no a chi pensa di fare compromessi morali se ne vada a casa non si avvicini alla nostra porta si presenti alle elezioni metta la faccia che vogliono e su quello ci andiamo a confrontare con i compromessi morali lo sanno io ci ho lasciato la toga di pubblico ministero per non fare compromessi morali da magistrato quando altri magistrati mi chiedevano di fare compromessi morali quindi quel blocco sociale non ci appartiene lo respingiamo un'altra priorità e su questo abbiamo dato mandato pieno ma ci sto anche io sul pezzo è la questione casa la questione casa che è nazionale e che è locale non c'è un conflitto in giunta ci siamo chiariti fino in fondo non c'è un'aggiunta della legalità e un'aggiunta dell'illegalità non c'è l'aggiunta della sanatoria e l'aggiunta della non sanatoria i punti centrali sono questi immediatamente assegnare gli alloggi a chi ne ha diritto nelle graduatorie fare un lavoro subito presto e bene abbiamo deciso di mettere nelle condizioni l'assessore Fucito di avere una squadra in grado di poter raggiungere questo obiettivo fuori la camorra i professionisti delle occupazioni e chi minaccia la povera gente che è nelle case daremo tutta la collaborazione necessaria a magistratura e forze dell'ordine se è del caso ci vado anche io terzo tendere la mano ai bisognosi veri caso per caso noi non butteremo in mezzo alla strada se abbatteremo le vele le persone che stanno nelle vele come noi abbatteremo le vele daremo un posto per vivere a chi esce da quelle case noi sappiamo distinguere tra il camorrista l'occupante di professione e il povero Cristo che in un momento di difficoltà ha occupato illegittimamente una casa così come faremo delle cose che non si sono mai viste in altri comuni a cominciare ad immaginare la requisizione di pezzi di città abbandonati da privati da 20-30 anni bene scriveremo come la Costituzione dice che la proprietà privata si può difendere se non va in contrasto con l'utilità sociale se l'utilità sociale si è abbandonata questo comune prenderà pezzi di città per darli alle città in movimento quelli sono i pezzi morti di città pezzi che non si riqualificano da anni ma magari sono di proprietà privata di qualcuno che da 30 anni l'ha abbandonata bene ce la andiamo a prendere ce la andiamo a prendere la daremo ai poveri la daremo alle associazioni le daremo a chi veramente vuole fare qualcosa per la nostra città mentre qualcuno pensa a tutelare i grandi proprietari immobiliari facendo propaganda politica come si è visto in queste settimane sull'Imu noi stiamo pensando a un equocanone municipale stiamo pensando a forme di incentivazione che racconteremo nei prossimi giorni alle coppie che si sposano e decidono di vivere nella nostra città o che convivono nelle forme che ritengono noi non interessano né i matrimoni religiosi né i civili né le coppie di fatto siamo aperti a tutte le coppie l'importante è che ci sia una mano tesa a chi decide di vivere in questa città bene potrei dire altre cose ma chiuderei su come la città risponde quando ci sono cose innovative 200 luoghi adottati in pochi mesi 200 luoghi adottati questo significa che alla città quando tendi una mano e fai comprendere che c'è un'amministrazione che dà risposte che semplifica le procedure che attenta che guarda il territorio in tutti i territori l'ho detto i luoghi adottati più belli forse stanno a pianura dove spesso si raccontava ve lo ricordate due anni fa che cos'era via montagna spaccata che cos'era pianura dove non si poteva manco camminare si deve fare ancora molto non è che ci piace la pulizia a pianura del territorio si deve fare ancora molto ma dove c'erano le montagne di Munnezza ma ci sono le rotatorie adottate dai cittadini che sono tra le più belle della nostra città quella è la città che vogliamo liberata un poco un poco alla volta devo dire che sintetizzare 15 ore di confronto non è facile ho parlato un pochino forse troppo però devo dire sono stato molto sintetico perché avrei almeno altri 100 argomenti da dire ma questi 100 argomenti li dobbiamo dire nei prossimi giorni io ho invitato i miei assessori ad andare di più a parlare di più con i giornalisti più con le persone fare interviste stare in radio stare in televisione stare in mezzo alla gente dobbiamo raccontare ostacoli ma anche le cose che facciamo guardate è incredibilmente sorprendente quando io vado a fare le assemblee di quartiere da ultimo l'altro giorno a Ponticelli e molta gente mi dice sindaco ma io questo non lo sapevo sindaco io questo non lo so sindaco ma veramente state facendo anche questo quindi vuol dire che su questo dobbiamo moltiplicarci e stare con l'aiuto di tutti gli altri amici e amiche che ci vogliono bene e che vogliono bene alla città di comunicare quanto più cose possibili ovviamente io sono a disposizione questa è una conferenza stampa non è un'assemblea cittadina quindi era una conferenza stampa un punto stampa un momento di rendere pubblico alla città che cosa sono state quelle 15 ore a mostra d'oltremare se ci sono domande io sono ben lieto di rispondere se volete approfondimenti gli assessori sono a vostra completa disposizione ora come dopo quindi io sono qui signor attestato attestato il denaro e i composti per piazza Pencio Convento per piazza Garibaldi si sta facendo sapere sono dovute arrivare sette macchine della polizia municipale tutta la giornata occupate questa piazza si sta facendo allora su piazza Garibaldi se leva anche in questo momento è in atto l'inizio di un processo di riqualificazione molto radicale perché in occasione dell'ampliamento dei cantieri per i lavori del parcheggio e della metropolitana lei vedrà che davanti piazza Garibaldi ha uno scenario che io personalmente da quando vivo a Napoli non avevo mai visto cioè abbiamo cominciato quell'opera di riqualificazione ambientale a piazza Garibaldi corso meridionale corso Novara corso Garibaldi piazza Principe Umberto abbiamo deciso di non consentire più che ci possano stare accampamenti in questi luoghi della città quindi un'operazione che è cominciata e che si vedrà molto visibile nelle prossime settimane a piazza Garibaldi già si vede se lei va a cominciare dagli autobus che non sono più presenti e quindi lo vedrà penso di essere stato abbastanza chiaro lo sarò ancora di più l'11 settembre c'è un consiglio comunale il comune di Napoli intende per quella data portare una proposta precisa e chiara che illustreremo quando la proposta precisa e chiara sarà fatta le linee di direttrice le ho dette chiaramente quali sono analisi caso per caso delle situazioni immediatamente ciudere la graduatoria e quindi dare gli alloggi a chi ne ha diritto tutelare le situazioni effettivamente bisognose dei nuclei familiari che non hanno occupato per professione o per lucrare e invece tolleranza zero nei confronti di chi minaccia gli occupanti di professione camorra e quant'altro la formula giuridica sarà nota alla città la stampa da qui all'11 settembre Roberto Fuccino Fuccino Repubblica all'inizio avevo le bonifiche richieste al governo per gli interventi di bonifiche e quant'altro posso chiedere quali strumenti si cerca di agire nel senso che Bagnoli ha una strada che per normale conosciata ma Chiaiano e il resto cioè quello che non c'è nel piano nazionale delle bonifiche cioè chiedete altri fondi altri strumenti legislativi quali strumenti Beh innanzitutto grazie alla domanda innanzitutto il governo allora diciamo più che il governo la città di Napoli attraverso il suo sindaco ha il diritto dovere di chiedere al governo la bonifica di siti che sono stati inquinati lo è stato fatto in altri casi pensiamo appunto a quello che è Bagnoli pensiamo all'area nord che è stata massacrata dalle discariche pensiamo a Pianura con le ecomafie pensiamo alla zona orientale con le raffinerie che vanno delocalizzate i depuratori e quant'altro noi pensiamo che con la nostra azione siamo in grado di dimostrare che siamo pronti a gestire fondi per la bonifica e per la riqualificazione poi crediamolo anche detto prima questo punto che a nostro avviso è centrale sull'area nord deve vedere interessato anche il governo cioè l'idea di poter sostituire a un'immagine diciamo tra virgolette del degrado della nostra città come sono state le vele un progetto di grande riqualificazione di ricerca di sviluppo di università e di formazione è qualcosa che non può fare solo il sindaco di Napoli il presidente della regione ma interessando temi come lo sviluppo la sicurezza la ricerca deve avere dentro il governo poi quello che con precisione chiederò al governo lo faremo dopo che ovviamente ho fatto l'incontro altrimenti poi si perde anche un po' di curiosità e poi magari che ne so il presidente del consiglio potrebbe dire vabbè il sindaco ha troppe idee magari è meglio che lo riceviamo un po' più là quindi voglio dire illustrerò al presidente del consiglio le cose intendiamo fare ho detto quel tema perché secondo me riqualificazione e lavoro sono i due temi centrali dell'agenda del comune di Napoli al governo Letta che ha mostrato sinora comunque un interesse importante per la città di Napoli perché in tutti i tavoli in cui ci siamo seduti soprattutto col ministro Orlando ma per finire anche al ministero dei beni culturali altri ministro del Rio ed altri ci sono state risposte significative ci vuole un cambio di passo da questo punto di vista e l'incontro va in questa direzione Giovanni del Mattino buongiorno vorrei chiedere tra quattro mesi c'è la città metropolitana dovrebbe nascere la città metropolitana è previsto un tuo ricordo con i sindaci del circondario tra poco l'anno sarà in un certo senso capitale di quella che è l'enorme area metropolitana che abbiamo è un territorio di spiuto di frontiera fino a ieri tra quattro mesi potrebbe essere una risorsa importante tu ci stai lavorando a questo tipo di strategia si ci sto lavorando e ne abbiamo parlato anche nella riunione di mostra d'oltremare io sto per avere questa settimana mi sarà consegnato il lavoro importante che ha fatto Alberto Lucarelli insieme alla sua squadra perché come ricorderete lui è stato nominato come referente per la costituenda città metropolitana e mia intenzione nel mese di settembre promuovere una riunione tra tutti i sindaci di quella che sarà l'area metropolitana quindi noi assumeremo un'iniziativa politica forte sulla costituenda città metropolitana nella quale crediamo e non ci faremo trovare impreparati così come vogliamo avere un ruolo importante di una cosa di cui se ne parla poco il 26 settembre se non vado errato c'è l'elezione del nuovo presidente Anci Campania credo che sia necessario e importante che la città di Napoli abbia un ruolo significativo sempre di più all'interno dell'Anci Campania grazie a voi come no certo l'ho detto siamo qua no invece con i partiti non ostacoli chi vuole mettere ostacoli all'amministrazione non lo sentiremo ma lo so questo tipo di cosa può significare un giudizio di incompatibilità di inammissibilità di una domanda di una domanda di una domanda referendaria che vuole essere di questi giorni per quella che dovrebbe dire vostro giudizio sull'amministrazione che suona un po' mozione di istituzione fuori dal consiglio io voglio voglio chiarirla anzi grazie di questa domanda che mi consente di esprimere un pensiero che non ho ancora espresso sinora e che penso possa essere sintetizzato in questo modo noi non siamo favorevoli siamo favorevolissimi ai referendum consultivi che li abbiamo addirittura rafforzati quando ci siamo insediati il referendum consultivo non è quello Fucillo che ha sintetizzato lei perché quello è il referendum che si fa nel 2016 quando si va a votare si dice quale sindaco vuoi e se questo sindaco si ripresenta c'è il referendum sul sindaco il referendum consultivo come prevede lo statuto è fatto su fatti specifici vuoi l'acqua pubblica nella nostra città o vuoi una società per azioni che privatizzi l'acqua e tanti altri quesiti questi per noi se servono a migliorare il rapporto tra l'amministrazione e la città ed è uno degli strumenti per far ascoltare la voce dei cittadini non abbiamo nulla a incontrare addirittura potremmo essere favorevoli ad alcuni quesiti poi se lei mi pone la domanda anche per una mia riflessione politica e l'ho detto anche un po' prima trovo un po' curioso cioè me lo sarei aspettato come dire da Gianni Lettieri un referendum consultivo su alcuni temi fatto da chi insomma ha governato per vent'anni cioè parliamoci chiaro questo è un dato non è che lo sto inventando io ha governato per vent'anni ci ha consegnato un cadavere amministrativo politico e istituzionale noi ci siamo presi del fango in questi due anni non per colpa nostra perché chi ti lascia una famiglia immaginate una famiglia con i debiti poi come fa a portare avanti la famiglia un miliardo e mezzo di debiti 850 milioni di savanti è chiaro che loro adesso hanno un po' di prurito politico perché vedono che se noi veramente nel 2014 andiamo in avanzo è un po' un bello schiaffo morale politico insomma a chi ci ha lasciato un cadavere è un po' curioso di chi governa con un condannato per evasione fiscale a Roma fa un blocco sociale politico insomma poi va a chiedere un referendum come dice lei non su fatti specifici ma sul sindaco all'unico sindaco veramente di sinistra di una grande città che c'è nel paese che governa con una maggioranza che è fuori dal Parlamento che vuole dialogare ma lo dico con sincerità io sono interessato ma io financo dialogo col PD questa è una cosa bella perché io dialogo con tante persone del PD ma io sono un uomo che dialoga con tutti vado a dialogare anche con quelli che magari mi volevano morto io ho dialogato quando ero magistrato anche con persone che ho fatto condannare io credo nel dialogo figurate se non credo nel dialogo nel PD poi certo politicamente mi fanno pure poco sorridere che dopo manco due ci hanno incominciato a criticare un mese dopo che ci siamo insediati due mesi dopo tre mesi dopo quattro mesi dopo io chiedo a questo grande partito col quale dialogo perché poi questa è la cosa bella col quale dialogo cioè di aiutarci aiutare la città se è un grande partito come io credo sia un grande partito ci aiuti allora se il referendum consultivo significa sapere meglio se noi vogliamo l'acqua pubblica o non vogliamo l'acqua pubblica se vogliamo questo o quest'altra cosa bene se poi vogliono cominciare a due anni e mezzo di distanza campagna elettorale per risolvere alcune questioni loro o risolvere questo è un tema secondo me che a me non ha passione però io sto qua cioè se la mettono in quel modo stiamo qua noi governeremo ma penseremo soprattutto non ci facciamo infiammare da questo tema ecco non ci appassiona come dire c'è il Roma il collega Brantasi il suo rapporto ha parlato del PD il rapporto per esempio con Renzi con altri sindaci con i quali hanno condiviso il PD allora grazie di questa domanda io ho dei rapporti con il PD io ho un ottimo rapporto con tantissimi sindaci di vari partiti anche per esempio con del centrodestra ma ottimi rapporti con i sindaci del PD ho un ottimo rapporto con alcuni sono diventato nel corso del tempo addirittura amico con altri c'è un buon dialogo politico Orlando Bianco Emiliano Renzi Pisapia Zedda Fassino Doria ne potrei citare anche altri perché noi governiamo le città cioè quando ci vediamo e parliamo in un luogo del Lanci in un luogo in un comune o davanti a un bicchiere di vino alla fine i problemi sono molto simili certo Napoli è un amplificatore del conflitto sociale ma i problemi sono molto simili e quando i problemi sono simili quando c'è rispetto per il ruolo c'è una grande condivisione un grande anche feeling politico che fa bene al paese guardate l'ha detto Fassino lo dico io lo diciamo tanti sindaci forse i sindaci in questi mesi così difficili hanno consentito al paese di mantenere un tessuto democratico valido che noi ci abbiamo messo la faccia il corpo il cuore la mente le braccia le gambe cioè guardate che è complicatissimo fare il sindaco in questo momento storico e soprattutto farlo in alcuni contesti allora quando ti siedi al tavolo Cottosi o piuttosto con Renzi o piuttosto con Emiliano parti da una condivisione che certe volte non c'è con altri magari che fanno politica in altri luoghi o alcuni che magari pur avendo responsabilità di partito locali o altrove hanno perso il rapporto con la gente pensano di essere i grandi risolutori di problemi ma in realtà non ci stanno più tra la gente non ci stanno più ecco perché alla fine uno si deve interrogare ma come mai i sindaci tra di loro vanno molto d'accordo e poi pare che litighi con un segretario di un partito che magari non so è da un anno che non riesce manca a fare la segreteria di partito cioè mi chiedo alla fine il rapporto con la gente dove sta i partiti dovrebbero fare quello io sarò il più grande sostenitore dei partiti nel momento in cui i partiti ritorneranno a fare quel tipo di lavoro che è previsto dalla Costituzione cioè essere l'anello di collegamento tra l'istituzione e il cittadino ricordatevi l'intervista di Berlinguer che è illuminante da questo punto di vista allora io quando penso ai partiti penso innanzitutto ai partiti della nostra maggioranza che con mille difficoltà stanno condividendo un'esperienza straordinaria altro giorno ho incontrato il SEDA nazionale d'Italia dei Valori che confermava di quanto sia importante l'esperienza napoletana penso alla federazione della sinistra anche questa è una storia difficile guardate governare una città come Napoli non avendo rappresentanti diretti della nostra maggioranza in Parlamento non è una cosa facile ecco perché io sono interessatissimo anche ad avere un rapporto sempre migliore con i partiti soprattutto del centro-sinistra ma non solo che sono rappresentati in Parlamento non c'è nessun altro non c'è nessun altro non c'è nessun altro fucillo scadenato noi abbiamo parlato ovviamente seppur sommariamente dei vari chiamiamoli così varie questioni che ci sono state che hanno interessato varie persone io il mio pensiero l'ho espresso in modo molto chiaro in questi giorni non c'è stata mai nessuna ipotesi di assunzione e fin quando io sarò sindaco questa cosa non ci sarà ma non perché non sia legittima e non sia financo giusta e perché nella mia ragionamento è prevalsa sempre una motivazione di opportunità ovviamente che di questo si dibatta o che ci possa stare qualcuno che la pensi diversamente da questo mio pensiero e che addirittura faccia proposti in una direzione opposta non mi meraviglia non mi scandalizza anzi significa che viene fatto tutto alla luce del sole se poi qualcuno mi viene a chiedere il parere o mi viene a chiedere tu che fai l'ho detto in modo assolutamente chiaro e trasparente va bene?